C'è un bel servizio sul suo editore, sul suo editore Tessano numero uno del PD, editore di Repubblica e dell'Espress, ha detto che io ho delle oldie in posta rinca, anche qui, un giorno poi si sono a guardare e mi hanno detto una cazzata, però hanno fatto delle paginate, ti ricordo, perché non fanno invece un bel, eh, ce la vanno, ce la vanno, Pensa che uno che è stato 15 anni in realtà, dentro della società, perché con 1000 euro, con 500 euro euro, una società, SA, si chiama, è anonima, ma solo sull'alberazione, è stato 15 anni, ha detto che ero io attraverso lui, con Petro e sull'alberazione, finché l'ambasciatore del Costa Rica, ma che cazzo state dicendo, non è mica un paradiso fiscale, qui se li porti i soldi, fanno i tassi come l'Italia, ma allora l'hanno sputanato sulla prima pagina, ma te lo ricordo, Ebbene, perché questo giornalista non fa un bel servizio sul suo editore, su De Benedetti che vive in sito, per essere un progettivo, dovrebbe dire, caro De Benedetti, caro De Benedetti, quanti soldi avevi quando hai preso L'Olivetti, quanti soldi avevi quando sei uscito dall'Olivetti, e dimmi un po', L'Olivetti, quando sei entrato, quanti dipendenti aveva, te lo dico io, 70 mila, quanti ingegneri, 17 mila, quanti ne ha adesso, 250, che cazzo fa L'Olivetti, Una stampante coreana, montata in rea, ecco cosa è rimasto, te lo rimetti, la più grande società di informatica, e poi direi, caro De Benedetti, perché 30, 19 milioni di euro, di rimborsi di rete, di soldi pubblici, per il tuo incasso di giornali, per raccontare queste pandonie, E quanto ci costa, caro De Benedetti, in salute, nel tuo centrale a carbone, a Savona, che sta impestando di polveri in carbone, mezza, 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 mezza Liguria, allora, perché non fanno queste domande? Vengono, mi dà solo noi 200 euro della fiana, a noi ti abbiamo dato indietro 42 milioni, che si sono togliati lo stipendio, che 14 ragazzi sono entrati nella... Mi devo calmare, mi devo calmare, perché se mi viene un infarto a me siete morti, non c'è nessun altro, eh? Vengono, è una bella ragazza, non è una bella ragazza, ma una 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 e fa con le cooperative di pescatori di Mazzana e c'è la cooperativa di destra e di sinistra e si chiederò di coglione loro ah, io sono andato a vedere perché è così? no no, certo certo, in Mazzana e Vallo sono interessati perché la rete per il camberetto a maria larga e allora che cosa fanno loro? ci vedono quei lavori e con la magia stretta con dei disastri che sopravvigli intorno non possono pescare perché, certo, arrivano delle portaere giapponesi e portano pianto è tutto così è tutto così allora noi dobbiamo cominciare a rifare questo paese dalle basi, da tutto, dagli asini, dalla scuola, dalla sanità rifare un pensiero diverso e deve cominciare da qua allora il mal dei niente, i vostri prodotti devono essere protetti, non le quote di mercato dell'Unione Europea